Si osserva un crescente interesse sul mondo delle commodities. Su quale materia prima consigli di puntare nei prossimi mesi? Le commodities in questo momento stanno attraversando un momento di ribasso. Un ribasso partito dalla metà del 2014, innescato dal crollo del petrolio, ma favorito assolutamente dal rialzo del dollaro, che continua perché negli Stati Uniti c'è aria ormai di rialzo dei tassi, contrariamente invece a quello che stanno facendo, alla politica che stanno seguendo tante altre banche centrali, quali per esempio la BCE, che invece continua nella sua espansione monetaria, nell'immissione di liquidità e nel cosiddetto quantitative easing o allentamento quantitativo. Questo ha portato a una caduta dei prezzi delle commodities praticamente in tutti i settori. dollaro forte, dollaro alto, corrisponde a un appetito decrescente su questo comparto, ma le occasioni sono invece dietro l'angolo. Un esempio fra tutti lo zucchero, che ha toccato 10,5 e poi comunque ha ricominciato a salire, il caffè, che potrebbe entrare presto in una fase di stagionalità rialzista in vista della maturazione del raccolto brasiliano, e anche lo stesso petrolio, soprattutto nel 2016, quando comincerà una fase di accumulo di scorte a partire da marzo. Ok, e cosa consiglia a chi vuole avvicinarsi al trading sulle commodities? Ma naturalmente consiglio di seguirci. Commoditistrading.it è il portale di riferimento per quanto riguarda il trading sulle commodities, se anche l'informazione relativa alle materie prime e naturalmente l'informazione corretta, la formazione corretta possono aiutare a fare un graduale percorso di crescita e poter essere vincenti in questo settore. Grazie.